Sabato prossimo a Officina Giovani tutti a scuola di tecnologia, docenti, alunni e genitori. Dalle 9 alle 18 Officina Giovani ospita la giornata regionale dell'apprendimento digitale. L'evento è realizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale Toscana, AID, Associazione Italiana di Slessia e dal Comune di Prato. Sono oltre 33 gli appuntamenti totalmente gratuiti a numero chiuso tra laboratori su didattica inclusiva, metodo di studio e autostima, workshop sull'insegnamento delle lingue straniere su discipline umanistiche e scientifiche, tavoli di confronto su metodi di insegnamento utilizzati e supporti informatici, spettacoli e tre sale espositive. Si parlerà inoltre di edizioni digitali, di coding e di robotica. I 21 laboratori, la presenza della robotica, i robot, la realtà immersiva e come queste nuove tecnologie possono entrare nella scuola. L'innovazione è uno strumento, la tecnologia sono strumenti, debbono essere messi a disposizione della creatività dei nostri ragazzi, dei ragazzi e delle ragazze che li usano quotidianamente a casa, che li usano quotidianamente per divertirsi e li useranno nel futuro per i loro lavori e quindi essere formati a saperli utilizzare, ma soprattutto a utilizzarli per le cose che non sono soltanto tecnologiche, è un valore aggiunto che noi vogliamo dare alla città di Prato. C'è chi è già molto preparato e che quindi è un nostro player maggiore che ci darà una mano in questa giornata, ma ci sono anche molti che hanno voglia di cambiare la loro didattica e quindi verranno a questa giornata interessati per trovare spunti nuovi. Per iscriversi solo online e per conoscere tutti gli eventi in programma basta visitare il sito apprendimentodigitale.ponet.prato.it e registrarsi agli eventi.